Sono Lucetelli Valeria e sono una logopedista. Lavoro presso Humanitas Gavazzini e Humanitas Medical Care Bergamo. In Humanitas Medical Care mi occupo della valutazione e della presa in carico di bambini e ragazzi con difficoltà linguistiche e scolastiche in età evolutiva. Insieme all'equipe di logopedia mi occupo della diagnosi e dei disturbi specifici dell'apprendimento, ponendo particolare importanza a programmare ed effettuare un percorso riabilitativo e di supporto subito dopo la diagnosi che si è individualizzato. Inoltre collaboro con altri professionisti in merito alla valutazione e alla presa in carico di pazienti con difficoltà di voce, deglutizione e comunicazione in età adulta e geriatrica. Già dai primi anni di scolarità i bambini possono manifestare delle difficoltà nell'apprendimento, in particolare i disturbi specifici di apprendimento riguardano la dislessia, la disortografia, la discalculia e la disgrafia. Il percorso di terapia logopedica ha una durata estremamente variabile ed è volto a supportare le fragilità del paziente con un approccio multidisciplinare che coinvolga direttamente le famiglie tanto quanto le scuole. All'interno della nostra equip collaborano infatti un medico neuropsichiatra infantile, una psicologa ed una psicoterapeuta.